Cresce la richiesta di vaccinazione in Abruzzo spinta anche dalle nuove misure imposte dal governo. Un contesto su cui le aziende sanitarie e locali stanno lavorando lacrimente per accelerare al massimo le somministrazioni di vaccino e lo faranno a stretto giro anche con un piano che prevede una serie di open day con giornate in cui si potrà accedere alla vaccinazione liberamente senza bisogno di prenotazione. Cresce anche il numero di prime dosi somministrate negli ultimi giorni dopo l'estensione del Super Green Pass e l'obbligo vaccinale per gli over 50. Io devo dire che nell'ultima settimana abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda le prime dosi del 10% in Abruzzo. Quindi è un segnale del fatto che anche quelli che fino ad oggi erano stati più resistenti cominciano a capire l'importanza della vaccinazione. Abbiamo l'obbligatorietà per i cinquantenni, anche questo si comincia a vedere perché abbiamo diverse prenotazioni anche sugli ultracinquantenni e quindi anche l'obbligo di fatto ha fatto scattare un po' la necessità di vaccinarsi. Mi sembra che guardando i numeri dell'ultima settimana, gli ultimi tre giorni in particolare, mi sembra che c'è un incremento abbastanza evidente. Bisogna vaccinarsi, le ASL sono pronte, stanno facendo un lavoro davvero pazzesco per cercare di garantire i numeri necessari alla domanda, lo stanno facendo con grande sacrificio, però ecco la gente, però io comincio a vedere un po' più di razionalità anche da quelli che ripeto come ho detto prima erano più resistenti, insomma c'è gente, Novak che seppure viene predica un po' però alla fine il vaccino se lo fa. Ricordiamo che con il decreto del 5 gennaio che ha introdotto l'obbligo vaccinale per la popolazione degli ultracinquantenni è prevista una sanzione da 100 euro per chi al primo di febbraio non risulterà in regola con l'immunizzazione anti-covid. Siamo pronti anche per affrontare l'ondata degli over 50 e faremo sicuramente degli open day, ma insomma ripeto sulla macchina vaccinale la Bruzza ha dimostrato di essere una vera e fisarmonica aumenta e diminuisce a seconda delle necessità, i numeri sono importanti, siamo fra i primi in Italia per la fermizzazione di terze dosi, ritengo che non sia questo il problema, oggi il problema è cercare di convincere anche quelli più, ripeto, che ancora davvero non si capisce perché non vogliono vaccinarsi, convincere a vaccinarsi, poi le nostre animazioni sono piene di pazienti no max. Le dosi ci sono? Assolutamente sì.